Eccoci, direi che possiamo cominciare in perfetto orario. Grazie, benvenuti. Oggi in questa sala così grande parliamo del nuovo ordinamento sulla valutazione e la certificazione delle competenze digitali. Un argomento che sembra veramente ostico ma abbiamo due fantastici ospiti con noi a spiegarcelo. Abbiamo Ezia Palmieri del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, lei è dirigente dell'ufficio che si occupa proprio di innovazione didattica digitale e poi al suo fianco abbiamo Damiano Previtali che invece sempre al Ministero si occupa del Sistema Nazionale di Valutazione. Senza di loro nemmeno io che mi occupo per il Corriere della Sera da tanti anni di scuola avrei capito un bel niente di questo argomento. Io sono Valentina Santarpia, mi presento e direi che possiamo cominciare proprio da questo elemento ovvero la valutazione. Damiano vorrei partire proprio con te perché queste ore durante la prima parte della sessione degli Stati Generali della Scuola Digitale qui a Bergamo abbiamo sentito parlare molto delle innovazioni in campo scolastico ma soprattutto da un punto di vista tecnologico. In realtà qualcosa sta cambiando anche da un punto di vista passami il termine analogico ovvero finalmente il sistema di valutazione dei nostri studenti sta trovando una quadra. Sembra roba da poco ma in realtà come mi hai ben fatto capire si tratta di un passaggio fondamentale perché poi l'omologazione, l'accorpamento farà probabilmente sì che tutti quanti noi abbiamo degli strumenti per capire questi studenti in che direzione stanno andando e come stanno evolvendo. Cioè si tratta proprio di comprendere come le loro competenze crescono nel tempo e come si può quindi anche aiutarli con le tecnologie. Quindi cosa sta succedendo? Partiamo proprio da questo punto per poi sviluppare il nostro discorso oggi. Grazie per questa opportunità di portare un contributo. Mi scuso per la voce rauca ma di questi tempi è inevitabile, anzi il primo virus io sempre cerco di provarlo così faccio un po' da test anche in famiglia. Il tema è quello che diceva adesso Valentina Santarpia ovvero è tutto quello che abbiamo sentito e che anch'io ho avuto modo di sentire mettendomi in ascolto da questa mattina ad oggi pomeriggio ha un valore se ha una ricaduta all'interno delle competenze i nostri studenti. Questo è il tema cioè qualunque processo di innovazione, qualunque tecnologia, qualunque approccio anche altamente enfatizzato o ha una ricaduta sulle competenze i nostri studenti oppure non ha valore. Com'è la situazione rispetto alle competenze i nostri studenti e rispetto al tema che qui stiamo trattando alle competenze digitali. Allora io per dirla in cinque minuti mi servo di tre quattro slide così tematizziamo un attimo la situazione. Allora ad oggi anche perché so che di fronte a me probabilmente vi sono comunque persone interessate alla scuola e probabilmente anche docenti e dirigenti. La normativa collegata con l'orientamento prevede che si arrivi a un modello di certificazione unica. Oggi le competenze hanno una pluralità di modelli nella scuola differenziati a livello dei vari gradi scolastici e delle varie offerte formative. Se volete però vado veloce ce ne sono ben cinque ovvero il ministero qualche anche lui qualche difficoltà se riesce a metterla nei confronti delle scuole lo fa volentieri. Basterebbe dire che il modello nel passaggio dal primo al secondo ciclo sono due modelli diversi. Punto. Da qui benvenga finalmente quest'anno stiamo parlando di quest'anno scolastico di arrivare a una struttura unica. Il riferimento sarà la raccomandazione europea del 2018, l'assumiamo adesso, siamo veloci. Dopo solo cinque anni. E all'interno di quella raccomandazione europea maggio 2018 c'è una competenza, la competenza numero quattro, la competenza digitale. Quindi voi immaginatevi una struttura rinnovata come questa, anzi questa è proprio un'anticipazione, intanto è alla firma del ministro, dove vedete che c'è la competenza digitale che naturalmente ha una sua rubrica, questa è per la classe primaria, siamo in grado 5 sostanzialmente, che poi viene esplosa con dei livelli di certificazione. Ora se ci fermiamo qua non succede nulla, non succede nulla perché digitalizzeremo, il modello sarà digitalizzato ovviamente, ma avverrà che come capitava a me, io ho fatto il preside per oltre vent'anni a Bergamo, si sente dall'accento eccetera eccetera, quando c'era il certificazione delle competenze, riunivo il consiglio di classe, ci si metteva in parte al tavolo, il coordinatore prendeva in mano il modello cartaceo e diceva cosa mettiamo a questa competenza? E qualcuno faceva delle proposte, se andava bene, si discuteva, se andava bene, oppure come ho visto ultimamente, gli algoritmi sono tremendi, come ho visto ultimamente dei fornitori che forniscono un algoritmo per trasformare i voti in competenza, ovvero noi parliamo di competenza. Un'aberrazione direi, perché noi dovremmo cercare invece di fare il contrario, di trasformare il voto in una competenza descrittiva. Infatti, quindi capite che il tema non è avere un nuovo modello. Il tema è qual è il processo che costruiamo per arrivare alla certificazione delle competenze. A me spetta da un punto di vista ministero ordinamento, anche prima sentivo un intervento dicendo dobbiamo arrivare a certificare le competenze digitali. Le competenze digitali, la scuola già le certifica, il problema è cosa c'è dietro, quella didattica che arriva poi a definire quella competenza. Da qui, telegrafico, vi mostro alcuni passaggi. Questa normativa è all'interno dell'orientamento, DM328 bla 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 bla, e da quest'anno parte, a partire dal secondario di primo grado, a partire dal secondario di primo grado, uno strumento che è il portfoglio digitale dello studente. Dov'è il passaggio che è interessante? In un'ottica di personalizzazione, un altro tema che ho sentito forte nelle relazioni è, finalmente il digitale ci permette la personalizzazione. Il digitale ci permette la personalizzazione. E questo è uno strumento che già abbiamo a disposizione di tutti gli studenti, ovvero non si parte più dal consiglio di classe che lì, così, si mette a mettere delle crocette, ma si parte dallo studente con un proprio portfolio che ha all'interno una propria capacità di leggere con delle rubriche le competenze, fra cui le competenze digitali, che hanno dei framework, qui siamo in ambito di normativa scolastica, immaginatevi anche framework in ambito europeo, Digicomp, eccetera, eccetera. E solo alla fine si arriva ad avere un modello di certificazione delle competenze. Cioè, quindi, non si arriva a certificare le competenze senza avere in necessaria, inevitabile, importante considerazione lo studente. Questo è il percorso che bisogna fare, si intende fare, e gli strumenti ci permettono di fare. Tant'è, e chiudo, ultimo passaggio, è lo studente che inizia a dire le proprie competenze. In questo caso vedete che inserisce delle attività. Inserendo le attività le collega con le competenze, le collega con le competenze, ti dico io e documento in un mio portfoglio le attività che secondo me sono significative nel mio percorso formativo, scuola, estrascuola, formale, informale, non formale, e non solo formale e scolastico, le collega con le competenze e ti documento un capolavoro, tutti gli elementi che avete sentito in normativa, si parte da quest'anno, ti documento un capolavoro che dà evidenza di questa competenza. Che cosa è il capolavoro? Aiutaci a capire meglio perché. Il capolavoro ha una storia antica nella nostra cultura, perché se qualcuno di voi è interessato anche di letteratura, basta prendere un libro che è molto bello, che è Libra non sa malo, Meneghello, e troverà praticamente che lui descrive suo padre che al fine dell'Ottocento fu chiamato da, praticamente, dopo aver fatto un percorso formativo, fu chiamato da un'azienda a vedere se aveva le competenze. Qual era la dimostrazione di quelle competenze al termine del percorso formativo e per l'azienda? Era metterlo di fronte a una prova di realtà, ovvero in quel caso, leggendo Meneghello, leggerete che gli avevano chiesto di fare una vite perpetua. Iniziò a farla col tornio, fisicamente, in una cosa reale, concreta, iniziò a farla, dopo due minuti, non la terminò, e il datore interessato lui disse, ok, fermati, ho capito tutto, cioè tu quella competenza ce l'hai, non me la devi dire, me la devi dimostrare, mi devi dare un'evidenza. Questo percorso oggi è possibile, quindi ciò su cui io mi soffermerei, naturalmente tutto questo può essere visto anche in un'ottica dinamica, non pensato solo in un'ottica statica, ma in un'ottica dinamica, eccetera, eccetera, con degli strumenti che, fra l'altro, da leggere sul singolo studente, ma anche sugli studenti in quell'istituto scolastico, o dentro un territorio, o dentro una provincia, quella competenza diventa interessante. Noi ci fermeremo qua, noi come ordinamento, noi come organizzazione collegata con la normativa scolastica, perché ciò che avviene a scuola deve essere comunque supportato da una normativa, altrimenti non avviene. Naturalmente ciò che adesso interessa da parte nostra, questa è proprio la struttura del portfolio di ogni studente, la certificazione delle competenze. Ciò che adesso interessa da parte nostra è approfondire come arrivare a certificare le competenze in ambito digitale. E infatti è quello che volevo proprio chiedere a Ezia Palmieri, cioè la competenza digitale è un altro argomento di cui, ecco, si parla tantissimo, adesso anche all'interno del corpus delle competenze degli studenti, che diventerà finalmente appunto un corpus unico. Come si fa a dichiarare che uno studente possiede determinate competenze digitali, che quindi è pronto anche ad affrontare certe sfide che poi la società e il lavoro gli impongono? Non è per niente facile, abbiamo parlato qualche mese fa a Firenze della traduzione in italiano nel Digicomp, uno strumento molto utile a livello europeo, su cui si sta studiando da tempo per provare a raggiungere l'obiettivo di certificare. Ma noi invece, in Italia, e soprattutto a livello ministeriale, a che punto siamo? Bene, buonasera a tutti. Vi ringrazio per questa possibilità che ci consente un po' di ragionare su queste cose. Allora, innanzitutto, non ce lo chiediamo solo noi, come si fa a certificare e a che punto siamo con le competenze digitali, non solo dei nostri studenti. Faccio una breve premessa, ma vi dico che si occupano di competenze digitali anche a organismi che ci sembrano più disparati e anche più distanti dalle nostre realtà. Nella nota di accompagnamento al documento di economia e finanza, nello scorso ottobre, un capitolo importante è stato riservato al digitale in senso lato. E mentre se da un lato il documento rileva che sono stati fatti dei passi avanti sull'aspetto del digitale in termini di infrastrutture, il cloud, l'interoperabilità dei dati, si sofferma con grande, diciamo, sottolineando come invece sul campo delle competenze digitali siamo ancora molto indietro. Ce lo dice Cassa Depositi e Presti di un altro organismo interessato al Paese in senso lato che in alcune linee guida sottolinea come le competenze digitali di base sono l'elemento abilitante e il prerequisito per l'acquisizione delle competenze in genere e per poter entrare degnamente nella vita lavorativa, ma anche nella vita sociale e personale di ciascun cittadino. E lo richiamerò dopo, ma c'è l'UNESCO che è da sempre interessato ai giovani e che da settembre sta elaborando tutta una serie di documentazioni dopo aver fatto una digital week i primi di settembre con cose estremamente interessanti di cui poi magari darò qualche annotazione. Andando avanti vi dico e vi annuncio, Damiano ha detto che noi abbiamo impostato tutto il discorso, ma anche quello che vedremo adesso insieme sulla raccomandazione europea del 2018. Ecco, sappiate che da ieri la Commissione europea ha annunciato due nuove raccomandazioni nell'ottica delle competenze per l'era digitale, quindi insomma ci sarà da lavorare. Una cosa importante, altra cosa importante da dire è che sempre a livello di Commissione europea si sta lavorando ad una certificazione delle competenze sulla base di quello che ormai noi conosciamo bene per le lingue, cioè in modo da poter consentire ai cittadini e chiaramente nel nostro caso ai nostri studenti di acquisire, di certificare una competenza in modo uniforme e coerente perché sia poi spendibile in tutto il contesto europeo. Quindi insomma il dibattito è ampio. Allora cosa stiamo provando adesso a fare noi proprio per dare un sostegno ad un dibattito che da anni si porta avanti e che purtroppo i documenti ci dicono e anche le evidenze che in realtà stiamo un po' indietro. Ecco, questa è la definizione riferimento al modello concettuale del DG Comp della competenza digitale nell'ottica appunto della raccomandazione del 2018. Qui non ve l'ho citato perché viene sempre citato abbondantemente, è l'indice che misura lo stato di salute digitale della nostra economia e questo per quanto riguarda l'Italia ci mette in evidenza come quanto anche riportato nel documento che vi dicevo di che accompagna il nostro bilancio dello Stato e che mentre sugli aspetti più infrastrutturali siamo un pochino meglio, sul capitale umano siamo indietro. L'ISILS, non so se qualcuno di voi è stato anche campionato per questa indagine internazionale che misura i risultati, questi sono del 2018 ma c'è stato recentemente tra il 22 e il 23 la nuova rilevazione, stiamo aspettando i risultati, misura il grado appunto di competenza digitale degli studenti dei quindicenni, quindi un target ben preciso rientra nelle rilevazioni internazionali un po' come il PISA ed altri e quindi vedete che qui è estremamente imbarazzante perché il livello era molto basso. Questa ve la mostro velocemente ma perché è uno dei dati dell'UNESCO a cui facevo riferimento, qua stiamo già oltre parlando di intelligenza artificiale che si alimenta e si nutre di dati, di grande mole di dati, ecco questa è l'UNESCO che nelle sue linee guida che vi dicevo ha prodotto e sta producendo proprio velocemente in quest'ultimo periodo, questa è la tassonomia della povertà in termini di dati è molto interessante, semmai potete andarvelo a cercare perché mette in evidenza come a questo livello rischiamo di creare un nord e un sud dove l'incapacità di gestire i dati creerà veramente un ritardo importante. Ma quello su cui mi volevo soffermare è che come vedete tante sono gli elementi della rassonomia ma i fattori abilitanti sono la diffusione dell'infrastruttura di rete e la competenza, la literacy digitale dei cittadini come ripeto essere fattore abilitante. Andiamo a noi, anche diciamo l'agenda europea ha a cuore tutto questo, andiamo a noi, quale strumento possiamo offrire per legarci a questa opportunità che hanno i nostri studenti di in qualche modo autovalutarsi sul digitale. Ecco sulla base di un accordo e anche di una perché forse lo dicevo oggi con qualcuno nell'angolo del corner a noi dedicato, quando si parla di digitale e di innovazione bisogna riflettere sul fatto che è molto importante l'apertura. Ecco in un'ottica di apertura noi abbiamo fatto tutta una serie di come dire di relazioni, di accordi, di condivisione con organismi istituzionali. In particolare qua faccio riferimento a un accordo che abbiamo con Repubblica Digitale che all'interno della Presidenza del Consiglio nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione digitale si occupa della definizione di tutte le politiche, gli interventi sulla digitalizzazione del nostro paese. Loro avevano a disposizione dei video che erano stati realizzati proprio alla luce e sulla base del framework del Digicomp 2.2 e che in una modalità di accordo abbiamo avuto a disposizione, li abbiamo un po' ritagliati e adattati alla realtà scolastica e questi sono diventati gli strumenti che metteremo a disposizione dei nostri studenti per autovalutarsi. Quindi per capirci cerchiamo un attimo di spiegarla bene perché è molto importante. Gli studenti avranno a disposizione diciamo così dei test che potranno fare anche da soli per capire a che punto sono io col digitale. Sono convinto di essere un nerd bravissimo, super veloce, in realtà magari mi mancano invece delle basi forti e importanti e questi strumenti potranno essere usati sia a scuola sia dagli studenti stessi. Perfettamente Valentina hai centrato esattamente qual è diciamo lo strumento che abbiamo a disposizione ma non è solo il test, il test viene successivamente alla fruizione dei video didattici che sono diversi a secondo della competenza, poi lo vedremo, lo leghiamo a livello 8, a livello 10, quindi le parti di competenze digitali che prese dal Digicomp 2.2 sono più adatti a questi due segmenti di popolazione studentesca. La fruizione del video che possono fare autonomamente, liberamente ma che può essere anche strumento di lavoro in classe con i docenti, alla fine di questo percorso, ci sarà un test. Poi andiamo a sviluppare uno strumento che tutti potranno presentare che è l'open page, giusto? Ecco, perfetto, dobbiamo chiudere. Questa documentazione così completa a fronte del superamento del test, del livello di posizionamento del test, ha automaticamente in sé, perché quando nell'accordo con Repubblica Digitale e col Dipartimento abbiamo preso tutta la struttura, secondo la logica della blockchain genera un open badge che attesterà il livello e le competenze che in quel momento su quel pezzo di formazione ha acquisito lo studente. Quando parli di studenti 8 e 10, spieghiamolo, sono quelli di terza media e di quella dell'obbligo, giusto per essere sempre sicuri che tutti possano seguire il nostro discorso, credo che sia fondamentale. Ecco, questa è un po' tutta la struttura, secondo appunto la logica che ho appena descritto. Quindi ci sono questi moduli fatti di video lezioni, ci sono anche a supporto delle esercitazioni e anche dei testi proprio di riferimento su cui potersi esercitare, ci sarà il test finale, il test finale secondo una struttura ben codificata, perché c'è tutto, ripeto, il legame con la blockchain che sapete essere, con lo strumento che certifica e attesta che quella è una competenza che è stata raggiunta e che sarà spendibile in ogni contesto. E quindi la fruizione, i livelli, no preciso perché il grado 8, come già detto, è riferito agli studenti alla, diciamo, della terza media per dirlo all'antica, il grado 10 è il legato al superamento dell'obbligo, quindi il secondo anno delle scuole superiori. I due percorsi sono, diciamo, in cascata, cioè non si può fare il 10 senza aver fatto l'8 e chiaramente in questo momento si parte, magari faranno prima uno e poi l'altro, ma in prospettiva pensiamo di poter offrire ulteriori percorsi formativi anche per gli altri gradi. Previtali, che cosa ne pensi? Questo metodo per certificare la competenza digitale può rientrare all'interno di quella valutazione delle competenze che dicevamo e soprattutto, questa è la domanda più difficile, molto bello a livello teorico, ma poi lo studente dove sta? Cioè stiamo veramente dando gli attenzioni o stiamo come al solito modulando qualcosa a monte che poi ricasca su di lui senza una valutazione veramente attenta degli effetti e delle conseguenze? No, grazie per la domanda, perché tipicamente noi tendiamo ad essere dentro anche delle procedure e non sempre ci facciamo invece delle domande di senso come questa. Allora, il primo passaggio è, sì, secondo me questo è un percorso che dà ulteriore valore alla certificazione delle competenze, quindi per mettere in fila proprio i passaggi. Quest'anno arriviamo con un nuovo modello per la certificazione delle competenze che finalmente, secondo me, aggiorna le situazioni pregresse che non erano aggiornate e dà per tutti i modelli una struttura comune. Detto questo, in realtà non succede nulla, perché o quelle competenze sono dentro un percorso, e quello che ha detto prima Ezia è un percorso promosso dallo stesso studente in un'ottica di autovalutazione, oppure non sarà nient'altro che a richiesta della famiglia un certificato che si rilascia. In questo caso con il portfoglio non sarà più richiesto dalla famiglia, ma sarà dentro un documento digitale in automatico e la famiglia lo scarica quando vuole. Ma ciò che vale è davvero se quel documento ha un livello di substrato che ha un valore. Quello che ci ha evidenziato prima Ezia è un percorso, ovvero il percorso in un punto di vista autovalutativo. Certo. Ma la certificazione, colleghi fermiamoci un attimo, non è autovalutativa. No, certo. La certificazione dovrebbe, pretende, un livello terzo con un framework di riferimento. Questo fra l'altro per quanto riguarda le lingue lo sappiamo, perché molti di voi fanno dei percorsi a scuola e poi c'è alla fine un certificato collegato con le lingue, perché c'è un framework di riferimento europeo. Il framework adesso c'è anche in ambito europeo per il digitale, c'è anche. Finalmente c'è un percorso di autovalutazione, dove lo stesso studente si promuove in un percorso, ma dobbiamo arrivare, ulteriore passaggio, a un livello di certificazione. Ci arriveremo fra due anni, probabilmente, perché è all'interno del PNRR, quindi non stiamo dicendo delle cose che sono avulse. C'è un percorso tutto interno al PNRR, ma attenzione, che tutto quello che stiamo dicendo, se non ha sotto una competenza da parte didattica, da parte di docenti, non implica nulla, non succede nulla, perché la competenza, prima di essere lo studente, deve essere una competenza dello stesso docente, altrimenti diventa un livello di autodeterminazione. Ma va bene, la scuola non è questo. Secondo passaggio, e questo è un tema interessantissimo, cioè ciò che vale in futuro, e lo scopriremo sempre più, sono le competenze. Via il titolo di studio, cioè nessuno quando va a un lavoro, se non è lo Stato, ti chiede il titolo di studio. Quando va di un qualunque imprenditore, vi faccio un esempio, come Ministero abbiamo fatto ultimamente una sessione con dei massimi imprenditori, con una fondazione, e abbiamo chiesto a loro, cioè, ma qual è la competenza che voi volete dei nostri studenti? Non ci hanno detto che debbono uscire con il 100 elodie, anche perché il 99% viene comunque promosso all'esame di Stato, e quei 100, sapete che hanno un livello di sperequazione altissimo a livello nazionale, perché uno dato a Bergamo non equivale a uno dato a Catania. Sto dicendo dei dati che sappiamo bene. Ciò che loro ci chiedono sono le competenze, e fra l'altro non è neanche la competenza digitale, perché la prima competenza, questi imprenditori hanno detto tutto, è la capacità di saper collaborare e lavorare con gli altri, che è una dimensione oggi fondamentale. Firmi un attimo, ciò che è importante per noi come formazione, come scuola, non è la competenza che serve a qualcuno, che si chiama imprenditore o come si chiama. Per questo diventerebbe un processo funzionale meccanicistico. La scuola serve per formare delle persone. Quindi deve essere lo studente a capire se stesso e le sue competenze. Se ha capito se stesso le sue competenze, allora poi le potrà valorizzare, fra cui anche il digitale, ma è una delle competenze, e forse neanche la più importante. Questo è il ragionamento. Attenzione, altrimenti ritorniamo agli anni 60, quando nascevano le competenze per il lavoro, le competenze per la cittadinanza, le competenze per la salute, le competenze per... La prima definizione delle competenze, sono le competenze per il lavoro ISPOL 1993. Non dobbiamo essere funzionari a qualcuno, perché la scuola è per la persona. È una visione vecchissima, diciamo quella. Assolutamente datata. Però attenzione, questa è ancora immanente. L'idea che la scuola deve essere a servizio di qualcuno, a mio avviso è un'idea che bisogna rimettere in discussione. Da sempre lo dobbiamo rimettere in discussione. La scuola è per la persona, non è per la formazione di una persona, con quelle competenze che poi valorizzerà per il lavoro, per essere un buon cittadino, per essere un buon insieme, quello che vorrà. Ottimo. C'è un aspetto che secondo me però dovremmo sottolineare e che mi preoccupa, e cioè la parte che potrebbe rimanerne esclusa, perché siamo facili noi a parlare nel mondo occidentale, soprattutto nelle fasce, diciamo, medie e alte della nostra società. Invece c'è una fascia di ragazzi, di bambini che potrebbe rimanere esclusa sia da un certo percorso e come si fa in quei casi, come si interviene. Valentina, grazie. Perché in realtà questo che, come ha ben detto Damiano, non è uno strumento di certificazione. L'ho detto all'inizio. La certificazione arriverà con un qualcosa che rende, diciamo, tutti omogenei e rispendibili ovunque e allo stesso modo. Questo diventa uno strumento, vi faccio vedere velocemente a quali, diciamo, ambiti fanno riferimento questi moduli, ma beninteso devono diventare, diciamo, l'avvio, il cavallo di Troia per portare documentazione materiale per fare questo e ben altro all'interno dei percorsi scolastici. Come vedete, a cui si fa riferimento questi moduli, sono competenze, chiaro sì, digitali, ma come ci sta reclamando il mondo intero? E guardate, adesso è il caso di dirlo, faccio riferimento a questo documento dell'UNESCO, dove si sottolinea il fatto che attraverso il digitale, perché siamo ormai, cioè il digitale è, come dire, pervasivo, copre tutti gli ambiti della nostra vita e diventa lo strumento attraverso il quale fa raggiungere ai nostri ragazzi, quindi lo strumento abilitante per il raggiungimento delle competenze di base, perché sono quelle che serviranno ai nostri ragazzi oggi, più che prima, nell'era dell'intelligenza artificiale, quelli che faranno la differenza e che le renderanno unici a poter gestire tutto quello che ancora sappiamo, noi anche sappiamo come sarà. E l'UNESCO lo dice molto chiaro, in queste linee guida per dell'intelligenza artificiale, per l'istruzione e la ricerca, sottolinea l'importanza che bisogna lavorare sulla competenza digitale, non come competenza a sé stante, ma come quello strumento che consente a tutti i nostri ragazzi di migliorare al massimo le competenze di base, di comprensione del testo, matematica, scienze, il saper appunto usare quel senso critico e quel ragionamento critico. E quindi arrivo alla tua domanda, il problema infatti è che spesso non esercitando queste attività rimangono indietro, cioè ci saranno alcuni che andranno velocemente e raggiungeranno livelli di competenza molto elevati, ma ci saranno tanti che rimangono indietro, perché è proprio tipico delle grandi rivoluzioni e la digitale è quella che è più dirompente perché sta crescendo in un ritmo molto accelerato, ce l'hanno detto oggi in tantissimi dei nostri relatori, ed è tipico di queste grandi rivoluzioni che quello che si crea è un aumento delle diversità, delle disparità. Ci saranno alcuni che andranno avanti delle eccellenze, delle grandi eccellenze, ma si potranno creare delle sacche di coloro che non hanno avuto determinate opportunità. Oggi Agostino Santoni ce l'ha detto in modo molto pagato, ma molto incisivo. I talenti ce li abbiamo tutti e partiamo tutti i talenti, ma le opportunità dipendono da quello che facciamo e lui ci ha detto chiaramente che tra uno studente sul quale non c'è stato modo di fare esercitare le competenze digitali e uno che invece l'ha potuto esercitare ci sarà una grande differenza in prospettiva. Tutto questo lavoro, oltre che per aiutare gli studenti ad una autovalutazione, perché poi quando è che ci rendiamo conto che dobbiamo intervenire su qualcosa? Solo quando ci mettiamo un attimo in discussione sulla base di una autovalutazione magari individuiamo l'ambito su cui intervenire, ma diventa strumento per poter lavorare a scuola in modo tale che questa sia una competenza trasversale per tutti. Giusto per concludere, perché siamo alle ultimissime battute, il portofolio finisce nel curriculum dello studente di cui abbiamo tanto sentito parlare l'anno scorso per l'esame di Stato. Riusciamo finalmente ad unificare appunto anche da questo punto di vista la raccolta dei dati, delle informazioni sugli studenti. Sì, questo non è una prospettiva, il dato concreto è questo, già da quest'anno scolastico noi avremo questo portofolio digitale per tutti gli studenti. In classe quinta, attualmente in classe quinta, giustamente ricorda adesso Valentina, c'è il curriculum dello studente che normativamente, un documento che per norma deve essere allegato al diploma e quindi accompagna lo studente con il diploma. Quindi voi immaginatevi una sequenza di questo tipo, un portofolio che nasce con l'ingresso a scuola dello studente e poi inizia a digitalizzare, sto dicendo materializzarsi, con la secondaria di primo grado e lo accompagna fino alla secondaria di secondo grado. in classe quinta quel portofolio digitale diventa curriculum e va a finire in allegato all'esame di stato come documento che accompagna lo studente nel colloquio e sempre più bisognerà fare in modo, già la normativa è chiara, non è un problema di normativa, bisogna formare i docenti, accompagnare eccetera eccetera, sempre più quel colloquio deve partire dal curriculum dello studente. Quel curriculum studente, ulteriore passaggio, basta cliccare, è già tutto predisposto, la strategica diventa Europass, quell'Europass diventa il curriculum per l'inserimento al lavoro università e quelle competenze certificate verranno riconosciute. Ottimo, ottimo. Ma Ezio appunto anche con te, giusto per concludere, il computer non è più intelligente ma va tanto veloce, quando possiamo avere queste prime certificazioni delle competenze digitali? Il lavoro da un punto di vista strutturale è stato già compiuto, adesso si tratta solo di capire come e quando inserirlo al momento in quella struttura. Nulla vieta che possa diventare, ripeto, strumento anche di lavoro in classe ma soprattutto nell'ottica anche della velocità con cui cambiano anche gli strumenti non è escluso che da quei moduli dei video poi si passi a qualcos'altro che sia mano a mano più coerente con la realtà che si sta vivendo. Benissimo, io ringrazio tantissimo Ezio Palmeri e Damiano Previtali del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ci hanno raccontato in maniera assolutamente perfetta e comprensibile questo nuovo sistema di valutazione e anche questa nuova certificazione delle competenze digitali. Grazie a tutti, ci rivediamo domani.